Si inaugura il porticciolo di San Vito a Mare, siamo con il consigliere Giacomo Cangemi. Quale spinta questo progetto può dare al turismo mazzarese e alla pesca? Per quanto riguarda il turismo, io mi sono attivato coinvolgendo oltre che aziende e persone qualificate per poterci dare una mano in maniera spassionata e disinteressata. Questa città, mi avviso, ha bisogno di un quarto pilastro, se così lo vogliamo considerare, cioè quello di dare un supporto a mettere in moto quel volano che si è spento da un po' di tempo. Noi con quest'opera, perché la considero un'opera, visto i sacrifici e visto la tempistica che abbiamo dovuto affrontare per la realizzazione del primo lotto funzionale, abbiamo voluto dare un esempio di buona gestione, buona amministrazione e che quando le cose si vogliono fare veramente il risultato poi alla fine arriva. Questo potrebbe dare un piccolo contributo al turismo mazzarese. Noi abbiamo potuto constatare già dall'apertura quante persone si sono avvicinate in quest'area perché molti magari convinti che non si potesse più riaprire, abbiamo dato dimostrazione che quando si vuole e c'è la buona volontà, fatto con coscienza, si può fare questo ed altro. Quali sono state le principali difficoltà nel processo di realizzazione del primo lotto? Possiamo parlare di difficoltà già dall'origine perché quando si è presentata l'istanza per ottenere la concessione demaniale di quest'area abbiamo dovuto affrontare un iter oltre che un progetto presentato, quindi un progetto preliminare, abbiamo dovuto affrontare un iter particolarissimo che molte volte scoraggia anche chi ha tutte le intenzioni di realizzare qualcosa a Mazzara. Noi lo abbiamo fatto perché siamo persone che teniamo molto alla nautica del Porto a Mazzara, teniamo molto alla nostra città, vogliamo che molti tra quelli che vorrebbero fare qualcosa prendessero veramente esempio da questa bella iniziativa e che domani potranno avere la possibilità di vedere altre situazioni come queste per dare proprio un maggiore lustro alla nostra città. C'è già una data per l'inizio della progettazione della parte mancante? Allora, l'intero progetto è stato suddiviso in due lotti funzionali, questo è il primo lotto funzionale, è stato già collaudato, quindi abbiamo la certificazione necessaria per dimostrare che è stato collaudato, l'abbiamo presentata sia all'assessorato territoriale ambiente che alla Capitina del Porto di Mazzara del Vallo e da lì praticamente solo per quanto riguarda il primo lotto si è venuto a mancare quelle condizioni che hanno scaturito quell'ordinanza la 72 2011. Oggi possiamo dire che questo primo lotto è funzionale, è funzionante al 100%, il secondo noi lo inizieremo secondo tabellino di marcia a novembre, quindi fino al 31 ottobre utilizzeremo questo primo lotto giusto per dare la grande soddisfazione ai soci che hanno contribuito economicamente e fisicamente anche alla realizzazione di quest'opera, oltre all'azienda, alla ditta che ha partecipato e si è giudicato ai lavori. E noi a novembre inizieremo il secondo lotto e porteremo a compimento il nostro progetto, quindi per primavera prossima 2016 avremo un porto turistico, sì piccolo nel suo genere, però sicuramente funzionale e caratteristico come noi abbiamo sempre detto.